buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le news da asti e provincia da questa settimana asti e parte del piemonte tornano in zona arancione il ministro della salute roberto speranza confermato che il piemonte a partire da oggi passerà in parte in zona arancione ma anche segnalato che in due province l'incidenza ancora sopra la soglia di allerta si tratta di quelle di torino e cuneo per le quali alla luce del nuovo decreto andrebbero mantenute misure più restrittive fino all'abbassamento dell'incidenza sotto i 250 casi su 100.000 abitanti la provincia di asti sarà invece nella parte del piemonte dove si allenteranno le restrizioni anti covid matteo l'ingegner astigiano che sta progettando le serre per marte a 26 anni sta compilando la domanda di ammissione alla ristretta cerchia di astronauti della nasa e nel frattempo per vivere progetta moduli autosufficienti in grado di ospitare colonie umane sulla luna o su marte o anche semplicemente sulla terra nelle sue regioni più in ospitali dove mai prima d'ora l'uomo era riuscito a vivere promette davvero bene matteo de vecchi il neo ingegnere ero spaziale astigiano che sta applicando nel lavoro esattamente quello che ha studiato il politecnico di torino e sul quale ha portato la tesi prima giornata del campionato calcistico di eccellenza nel segno delle squadre astigiane as di asti e canelli vincono entrambe con il minimo scarto per 1 a 0 e iniziano nel migliore dei modi il proprio percorso nel torneo la formazione bianco rossa di montanarelli dominano nel secondo tempo contro il cornelliano roero ma trova il gol solamente nel primo minuto di recupero grazie a una formidabile girata in acrobazia di piana la squadra di gardano invece vince in trasferta contro la cbs grazie a un sigillo al volo realizzato da lorenzo simone e con questa notizia è tutto un saluto un ringraziamento da parte della nuova provincia anche dei bambini grazie a tutti